Non c'è stato mio padre ha parlato, ho spiegato tante cose, perché alla fine uno non parla, quell'altro non parla. E tu re, perché tuo padre è il referente del campo? Sì, e non ero d'accordo manco con il padre di quel ragazzo che come parlava e tutto, perché dice scusa, vabbè perché, vabbè, ma tirate fuori il ragazzo, tanto prima o poi. C'è sempre, perché sì, rubi, normale, ma vai a ammazzare una persona, magari non avrà fatto con tutta la volontà, però è successo. E 180, allora la volontà c'è. Vabbè che c'è, però ti metti a scappare e tutto, e quindi questo è pure sbagliato. Sì, perché mio padre gli ha detto semplicemente a questa signora, o tu porti il figlio che se si fa sostituire tutto, perché così non se ne può, tutti i santi giorni, diciamo, non per la pulizia, perché uno ha ragione, gli va a ammazzare una persona e poi fai finta di uno. E va bene, ma erano due però i minorenni. Due minorenni, no, da quello che abbiamo capito noi, che c'era il padre, quel signore che stava lì, e c'era una ragazza e c'era quest'altro ragazzo. La ragazza poi l'hanno fermata e arrestata. Sì, sì, infatti. E basta. E poi, cioè, lo dovrebbe fare. Per la via di tanta gente che alla fine non c'entra niente. Questo campo. Questo campo, signora, da quando non c'erano loro, si poteva sentire al limite che, come ti fa? A loro, che è una cro... quanti sono numericamente? È una famiglia di quante persone? Ma saranno 20 persone. Cioè, così. Non è per la cattiveria, però è un campo tranquillo. E loro sono tutta un'altra razza. Che so sempre, come ti posso dire, tipo... Noi siamo per dire i croati, no? Ah, sì. E loro sono bosniaci. Noi sono bosniaci. E quindi, sono sempre zingari per te. Però vanno altre... altre culture, altre cose, altro modo. Quindi è anche difficile andare d'accordo. Cioè, non è che è proprio difficile andare d'accordo. Però sai, ognuno fa la sua vita e basta. Quindi voi sareste comunque più sollevati tutti quanti in questo campo, se alla fine si decidesse di consegnare. Ma certo, perché oggi o domani, scusa, oltre a mese, è meglio. Cioè, perché è una cosa giusta che dovrebbe fare.